I bambini della scuola dell'infanzia di Marignana presentano il loro lavoro dal titolo di qua e di là dal muro perché un muro è una cosa molto strana chiude divide nasconde però anche difende rassicura e protegge intorno al muro ci sono tutti i mattoni fatti dai bambini il muro può stare fuori ma può stare anche dentro di noi e con tutti i bambini abbiamo provato quindi ad aprirlo e oltrepassarlo per vedere cosa sarebbe successo avremmo trovato dei pericoli ci sarebbe stata la paura delle cose strane le meraviglie le possibilità non lo sappiamo noi abbiamo semplicemente provato a fare il viaggio e questo è quello che tutti i bimbi hanno immaginato che avrebbero voluto trovare di là dal muro ehi amico guarda vieni anche tu al di là del muro puoi trovare un mondo fantastico che ti aspetta prova non avere paura guarda nello specchio e vieni con noi grazie a tutti un saluto dai bimbi di marignano grazie a tutti grazie a tutti